Molti di coloro che per la prima volta approcciano a Tueppi sono fortemente attratti dalle feature innovative della piattaforma. E' altresì importante evidenziare che la piattaforma nasce dalla decennale esperienza in ambito organizzazione aziendale. Abbiamo portato a termine con successo centinaia di progetti organizzativi nei più diversificati settori di business. In ogni progetto organizzativo c'è sempre stato un forte orientamento ai processi aziendali, andando ovvero a ricercare quali sono i punti all'interno del quale vi è una perdita di efficienza e quali sono le attività che portano alla non produttività delle risorse. La gestione del cambiamento è un tema particolarmente importante all'interno di qualsiasi tipo di progetto che impatti sul modo di operare delle risorse. Questo tipo di esperienza la mettiamo a disposizione di ogni cliente che approccia al nostro progetto. Il progetto è un progetto di successo in quanto dedichiamo un project manager senior di esperienza nel settore di business del nostro cliente che seguirà tutte le fasi del progetto. Mettiamo a disposizione naturalmente Tueppi una piattaforma innovativa che nasce con l'obiettivo di efficientare immediatamente tutte quelle che sono le tipiche criticità di ogni processo aziendale e mettere in condizioni ogni risorsa di essere produttiva all'interno appunto del proprio ruolo. A seconda del settore di business del cliente mettiamo a disposizione della formazione tramite webinar che permette a tutte le risorse di crescere all'interno del sistema organizzativo. Quali sono le fasi tipiche di un nostro progetto? La prima fase è la fase di assessment, la fase di analisi ovvero il project manager tramite la risorsa di riferimento dell'azienda vanno ad analizzare quali sono appunto i processi sui quali l'azienda vuole immediatamente intervenire per ottenere efficientamento e una migliore produttività. Tutte queste informazioni raccolte che possono richiedere pochissime ore sono poi alla base di quella che è l'implementazione dello strumento all'interno dell'organizzazione. Una volta che l'organizzazione ha preso sostanzialmente dimestichezza con lo strumento e con appunto le modifiche apportate ai primi processi ci può essere poi una fase di improvement all'interno della quale possono essere rivisitati quindi si fa un improvement o un re-engineering di tutti quelli che sono i processi aziendali, improvement che può fare l'azienda in autonomia con il materiale che gli è stato messo a disposizione e con l'approccio allo strumento acquisito durante la fase 1 e 2 oppure è un'attività che possiamo fare a quattro mani sempre con attività da remoto che permettono di rendere il progetto sia dal punto di vista economico sostenibile anche per la microimpresa sia dal punto di vista impatto e tempistiche sostenibile per un'azienda che è tipicamente satura all'interno della propria giornata lavorativa. Vi invito pertanto a prendere contatto con le nostre risorse aziendali per capire come potrebbe essere impostato un progetto sulla vostra organizzazione.